ciao a tutti ciao a tutti ok che stanno ancora entrando delle persone quindi rinnovo i miei saluti e intanto che io che mi vedete prima di vedere la mia scrivania dovete entrare nella board dove viene trasmesso il webinar fate clic ovviamente e si aprirà la trasmissione poi di fianco voi troverete la chat per poter scrivere quindi se avete qualche cosa da dire o anche delle domande da fare lo potrete fare lì spero che abbiate scaricato i materiali in particolare c'era una cartella collegata alla mia drop box una cartella abbastanza pesante circa 800 megabyte e che contiene il progetto sul quale noi lavoreremo con le risorse necessarie il progetto sul quale lavoreremo oggi lavoreremo sabato lavoreremo gli altri webinar che avranno come oggetto da vinci cioè praticamente quasi tutti tranne il webinar che è previsto con philippe marsele che è un docente universitario di arti plastiche esperto di arte di linguaggi narrativi e grande comics grande fumettista molto conosciuto in francia in quel caso faremo solo una chiacchierata se non avete scaricato i materiali non fatelo adesso cioè perlomeno non scaricate adesso la cartella più pesante quella dove c'è tutto il progetto zippato ma potete scaricare il file semplice del progetto senza le risorse e la timeline che sono due file di pochi k ricordo che all'interno della di questa board ho inserito delle risorse ce ne sono anche un paio da guardare sono dei firmati di ispirazione la fotografia di questa schermata e l'ho inserita nella board di questo webinar in modo tale che se avete dei problemi vi resta come punto di riferimento trovate anche i nomi dei clip che abbiamo inserito in successione quindi vi sarà facile casomai in un secondo tempo ricostruirla bene questa era solo un'immagine allora che cosa dobbiamo fare per lavorare con da vinci quello che io vi spiegherò oggi non è naturalmente non può essere un corso approfondito su da vinci innanzitutto perché da vinci è un'applicazione super professionale è un'applicazione che i montatori professionisti che lavorano nel campo cinematografico e televisivo quindi stiamo parlando dei grandi canali televisivi che possono andare da sky la bbc al cinema di hollywood utilizzano per montare i film e in particolare questa applicazione viene impiegata nell'ambito della color correction cioè nella creazione di un'atmosfera che avvolge la narrazione attraverso la composizione dei colori all'interno dei del filmato stesso quindi anzi nasce per questo motivo noterete il modo con il quale si lavora con questa applicazione questi sono sono immagini di professionisti ecco qua che hanno tutta una strumentazione tra le quali delle console lo vedete qua per esempio o qui queste sono delle console che consentono di lavorare con da vinci e su tutto il piano di montaggio ma in particolare con nell'ambito della color correction quindi di quell'operazione di cui vi accennavo prima è molto interessante esplorare questo questo ambiente e darci un'occhiata ecco vedete come si lavora normalmente la black magic che è quella che produce da vinci è anche quella un'azienda che produce una serie di strumenti professionali molto belli molto validi molto sempre più utilizzati direi da cine operatori per la ripresa del film per la ripresa delle immagini e anche per la trasmissione via broadcast e quindi per la trasmissione televisiva ci sono alcuni strumenti che non sono cari e per esempio con un poco più di un migliaio di euro voi potete avere a disposizione degli strumenti di ripresa veramente eccezionali particolarmente interessanti quindi sono anche alla portata strumenti di un certo livello sono anche alla portata di un certo livello a portata di aziende istituti di formazione scuole che volessero dotarsi di una strumentazione professionale interessante per svolgere per raccontare attraverso le immagini in movimento quali sono le prime operazioni che dobbiamo fare con da vinci naturalmente lo dobbiamo aprire adesso cerchiamo di procedere insieme quindi cercherete di fare quello che faccio anch'io io procederò lentamente vi spiegherò bene tutte le procedure che ci serviranno per creare che cosa? per creare oggi eccolo qua per realizzare questi step che sono anche quelli che vi ho poi inserito nella board quindi innanzitutto oggi creeremo un draft cut cioè creeremo un montaggio che sarebbe come dire un montaggio preliminare nella quale la storia ha un suo senso preciso quindi i contributi sono organizzati in modo sequenziale e secondo il procedimento narrativo che abbiamo scelto abbiamo inserito anche dei titoli e delle colonne sonore ma dobbiamo poi quindi svolgere delle operazioni di rifinitura che ci porteranno al montaggio finale final cut il montaggio finale non lo faremo oggi lo faremo sabato perché sabato ci occuperemo anche dei raccordi di movimento che è un argomento che non viene quasi mai affrontato specialmente in ambito così amatoriale se vogliamo oppure negli istituti di formazione nelle scuole persino anche nelle aziende sono tecniche che non vengono prese in considerazione ma che sono invece indispensabili per poter costruire veramente una buona storia quindi ce ne occuperemo sabato faremo un final cut e poi invece ci occuperemo in un altro webinar quello che parlerà della color correction ci occuperemo della creazione di un ambiente di coloring quindi vedete che le procedure sono queste prima realizziamo un montaggio come dire un pre montaggio se vogliamo usare un termine italiano collochiamo tutto quello che ci serve sulla timeline lo tagliamo in un certo punto e abbiamo la storia grezza aggiungiamo la colonna sonora per comprendere anche l'effetto che può fare quindi poi mettiamo a punto mettiamo a punto tutto il montaggio solo alla fine noi con l'ultimo passaggio realizzeremo l'ambientazione la creazione di un'atmosfera attraverso meccanismi di colorazione di gestione del colore perché non dipingiamo le scene ovviamente e poi sincronizziamo il tutto o viceversa possiamo prima sincronizzare il tutto per bene poi occuparci della colorazione come preferiamo e alla fine poi condivideremo il nostro contributo allora intanto notate che qui io ho predisposto alcuni progetti ecco sono in questa schermata io ogni tanto butto l'occhio alla chat giusto per capire che se c'è un problema magari tipo va via l'audio o c'è qualche cosa del genere ogni tanto la guardo non per leggere i vostri messaggi ma per vedere se ci sono dei messaggi di allarme vedete che tra i vari progetti c'è uno che si intitola progetto esercizio il progetto esercizio è quello che io vi ho inserito all'interno della board e che voi avete sotto questa forma che adesso vi mostro vi collegate al mio webinar praticamente il link vi porta lì ecco e avete questo progetto zippato il progetto zippato una volta esploso è questo diventa progetto esercizio punto DRA DRA è la sigla dei progetti di Da Vinci che contiene a sua volta delle cartelle che sono queste altro, cache, media file e poi abbiamo un file che è project.drp questo file ci consente di aprire il progetto e di lavorarci quindi la prima cosa che noi abbiamo imparato adesso è che con Da Vinci noi possiamo archiviare un progetto sul quale stiamo lavorando e passarlo per esempio a un altro team un altro gruppo di lavoro il quale lo apre perché l'archiviazione del progetto diciamo quando Da Vinci archivia il progetto inserisce tutti i contributi all'interno delle diverse cartelle e poi crea un file che è il file dal quale noi facendo doppio clic apriremo direttamente il progetto esercizio e ci troveremo esattamente nella situazione in cui noi abbiamo lasciato questo stesso progetto quindi tutte le persone potranno lavorare su questo progetto ora che cosa notate qua? notate che c'è una scritta che dice media offline lo vedete? vuol dire che ci sono all'interno di questi progetti dei contributi di media che sono offline cioè che Da Vinci non ritrova allora questo è ovvio perché se io vi mostro la schermata del percorso di dove ho inserito i contributi vedete siamo in questo caso nella mia dropbox poi siamo all'interno di una cartella che si chiama Da Vinci Webinar nella quale c'è una cartella che si chiama cartella Da Vinci dove ci sono tutti i contributi questi sono i contributi che io ho utilizzato per creare l'esercizio di oggi quando abbiamo creato però il progetto naturalmente Da Vinci li ha sistemati per esempio all'interno della cartella media file ricreando un po' il percorso originale vedete lì abbiamo le immagini e qui abbiamo invece i contributi filmici e audio quindi qui abbiamo i media veri e propri e poi invece nel percorso della cartella user abbiamo le immagini e le fotografie utilizzate nel progetto quando voi aprirete quindi questo progetto e lo collocherete nella vostra scrivania oppure da qualche parte nell'hard disk è ovvio che il percorso sarà differente rispetto a quello che io ho stabilito nel mio computer mi state seguendo? Mi sembra chiaro no? Questo se io ho un determinato percorso dove ho inserito i contributi e poi vi do questo progetto è chiaro che voi magari non avete un Dropbox intanto non avrete Alberto Piani penso come user del vostro computer poi non avrete magari Dropbox la cartella non sarà questa i media li potrete aver sistemati da un'altra parte quindi che cosa succederà? succederà che vi appariranno dei messaggi di questo tipo cioè media offline voi non vi dovete preoccupare di questo ripeto non vi dovete preoccupare perché? perché se voi avete tutti i contributi all'interno di una cartella tipo questa anche se questa cartella è presenta delle sottocartelle addirittura un insieme vedete molto lungo di sottocartelle non importa perché basta che poi attraverso il sistema di ricollegamento che adesso vi mostrerò voi selezionate la cartella principale la cartella madre è sufficiente selezionare la cartella madre cioè indicare a Da Vinci che i contributi si trovano qui all'interno di qualche percorso perché lui li va da rientracciare automaticamente e quindi si ricostruisca la timeline come deve essere fatta allora ricordatevi che questa è la prima cosa che vi spiegherò quando apriamo un progetto e quindi qual è la conseguenza di questo? come dicevo prima la conseguenza è che voi potete tranquillamente iniziare un lavoro e poi passare a un altro gruppo anzi di gruppo in gruppo si potrebbe continuare a lavorare anche in questo modo per prevenire le domande che di solito gli insegnanti fanno perché hanno il mito della collaborazione condivisa in rete e quindi mi chiedono subito ma possiamo collaborare insieme in rete contemporaneamente allo stesso progetto? la risposta è sì ma la risposta è anche no è sì perché Da Vinci consente di fare in modo che più operatori contemporaneamente lavori nello stesso progetto ma questa è un'opzione a pagamento perché è un'opzione super professionale per chi lavora ovviamente in aziende o in caso di produzione o in televisione deve lavorare in team che a volte possono essere anche distanti e remoti e questo mi serve per dirvi anche un'altra cosa che Da Vinci è un'applicazione gratuita che ci consente di fare tutto quello che per noi è necessario fare ma ci sono alcune cose sofisticate e molto molto verticali che devono essere acquisite attraverso l'acquisto di moduli aggiuntivi e questo mi sembra logico ma è l'unico prodotto realmente tecnicamente voluto tra quelli più evoluti di tutti che è possibile utilizzare fino in fondo gratuitamente facendo proprio tutte le operazioni che sono necessarie allora vi ho spiegato questa cosa di media offline e di come funziona un progetto adesso date un'occhiata a ecco date un'occhiata meglio a quello che compare sulla schermata di avvio siamo nella schermata dei progetti lo vedete project definita anche come home e alla quale accederemo attraverso un tasto che sarà collocato sulla timeline che cosa osservate? per esempio potete osservare che questo è untitled project sarebbe progetto da costruire quindi partendo da zero partiremo da lì questi invece sono progetti già creati ad esempio valridanna per esempio eccolo qua lo trovate ossisi 20 i due filmati che vi ho inserito nel lavoro adesso hanno due progetti differenti ma se notate bene qui compare un numero eccolo qua il numero 25 che cosa vuol dire questo numero 25 all'interno di quella immagine che sembra comunque rappresentare un progetto qualsiasi significa che questo non è un progetto ma è una cartella che contiene diversi progetti allora abbiamo scoperto una cosa particolarmente interessante che se noi realizziamo un filmato in un prodotto in un'azienda in un istituto a scuola dove volete e pensiamo già che questo prodotto avrà diverse uscite quindi avrà diverse puntate per esempio potrebbe essere una web serie potrebbe essere essere dei piccoli documentari potrebbero essere degli episodi o semplicemente lo stesso film trattato in modo diverso perché deve uscire su diversi canali quindi potrebbe avere una lunghezza minore perché dobbiamo fare un po' di pubblicità su Instagram oppure nella versione completa va su Vimeo quindi più lungo più completo eccetera allora noi creeremo una cartella e all'interno di questa cartella creeremo i diversi progetti e diciamo che ogni progetto può corrispondere a un episodio o a un modo di veicolare il nostro filmato vediamo questo quindi io apro questa cartella che voi non avete e vedete che ci troviamo in una situazione analoga a quella precedente cioè abbiamo dei un sacco di progetti sono 25 in questo caso questo è un lavoro creato per un ristorante e sono piccoli filmati di 10 secondi l'uno che sono adatti proprio per essere distribuiti su Instagram e quindi essendo stati creati con lo stesso materiale girato si è prodotto un solo progetto e questo progetto ha poi cioè in una sola cartella e poi all'interno di questa cartella abbiamo creato i diversi progetti come vedete qui ce n'è uno che ha i media offline proviamo ad aprirlo lo apro io perché voi non l'avete vediamo che cosa succede succede che da qualche parte ci sarà qualche cosa che non funziona o sulla timeline o nei contributi che noi abbiamo quando abbiamo aperto il progetto noi ci ritroviamo ecco ci ritroviamo con una cartella sulla sinistra la vedete ci ritroviamo con il master il master è adesso ne parleremo ovviamente perché ricostruiamo questo tipo di struttura è il luogo che contiene tutti i contributi se io faccio clic con il tasto destro su master posso cercare una voce che mi dice relink clip for selected bin bin vuol dire cartella quindi posso linkare tutti i clip cioè riattivare il link a tutti i clip che sono compresi all'interno del master cioè in pratica tutti i contributi che ho inserito in da vinci per questo progetto quindi sarà semplicissimo fare così io farò relink e poi naturalmente devo cercare il percorso come vi ho detto prima quindi devo cercare gli user il vostro computer funzionerà in grosso modo come il mio che sia un mac o un windows o un pc in questo caso però non sono in sì sono in dropbox ma sono in un'altra cartella e sono in lavoro in corso e poi eccolo qua io ho questa cartella che si chiama Pantelleria con tutte le diverse cartelle che contengono diversi contributi eccetera non mi ricordo più dove siano in particolare queste risorse non importa basta che io selezioni la cartella madre e poi faccio click su ok e lui ricostituisce ed eccolo qua infatti prima non si vedeva questo 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 filmato e lui mi ha creato di nuovo tutti i link che restano esterni quindi noi lavoriamo senza importare i contributi dentro un'applicazione lui lavora con dei link esterni adesso un'altra cosa che vi voglio spiegare sull'organizzazione di DaVinci è che noterete che all'interno della board mi raccomando prestate attenzione a quello che vi sto spiegando adesso all'interno della board voi troverete anche un singolo file scusate un singolo file che si chiama progetto punto che non è la cartella progetto di DaVinci è proprio il progetto singolo messo lì e ne trovate un altro che si chiama timeline perché perché noi possiamo anche non esportare tutto il progetto cioè poniamo che abbiamo girato all'interno di un museo abbiamo di un'esposizione così abbiamo girato tramite diversi operatori abbiamo realizzato delle riprese questi operatori potrebbero essere dei semplici studenti o dei professionisti con i quali lavorate che stanno realizzando qualche cosa per voi o voi stessi avete diverse riprese queste riprese le scaricate sul vostro hard disk e per esempio le inserite attraverso una cartella di google oppure una dropbox oppure qualsiasi altro sistema di condivisione poi condividete questa cartella con un po' di persone altri studenti altri colleghi e così via e intanto iniziate a montare voi per esempio perché voi avete il compito di costruire la narrazione preliminare e qualcun altro poi farà la messa punti raccordi e tutto il resto allora è inutile ricondividere tutto il progetto con tutti i contributi di nuovo che si appesantisce e che è il caso della cartella invece che vi ho inserito all'interno della board quella pesante da 800 MB basta scegliere file e in file scegliamo export project e con export project lui salverà semplicemente il progetto lo mettiamo sulla scrivania così vediamo che cosa viene fuori c'è già il nome perfetto che è quello lo mettiamo qui selfie drp e quindi salvare tutto il progetto significa anche ricostruire il master con la disposizione di tutte le risorse oppure lui quindi anche le risorse che noi abbiamo utilizzato oppure esportiamo il progetto in un formato che è il formato per esempio XML file e lui dirà che cosa hai esportato stiamo esportando stiamo esportando la timeline la mettiamo sulla desktop che cos'è la timeline la timeline è questa vedete in questo caso si tratta di questo di questo progetto scusate non durava 10 secondi ma un minuto appunto deve essere la durata di un minuto vedete dura un minuto ci sono dei titoli poi ci sono dei filmati eccetera e una colonna sonora e così via cioè lui ripropone questa timeline ora quando voi aprirete questa timeline o aprirete il progetto vi apparirà la scritta offline 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 media offline perché non trova i media chiaramente ma con il sistema che vi ho detto prima cioè da master direttamente file e poi abbiamo detto dove scusate master eccolo qua col tasto destro del mouse master relink clip for selected bin voi vi darete quali sono andrete in quella famosa cartella di google o di dropbox eccetera che avete condiviso e nella quale ci sono tutti i girati tutti i contributi e lui ricostruirà esattamente la scena come deve essere sia la timeline che il progetto adesso con il tasto con il mouse qui in basso a destra ho fatto clic sull'icona home e siamo tornati eccolo qua siamo tornati alla nostra pagina iniziale come facciamo ad arrivare di nuovo alla pagina dei progetti beh è semplice qui in basso a sinistra abbiamo la voce il percorso quindi da legal project andiamo a home e quindi ci richiamo di nuovo in questo caso nella nostra come si chiama nel nostro progetto adesso io cosa voglio fare io voglio aprire il progetto che voi avete qui che vi ho dato avete due strade se non l'avete scaricato potete tranquillamente usare il file quello semplice di progetto da 300k c'è solo il progetto quindi che vi ho dato facendo l'operazione che vi ho appena spiegato quindi quella di creare un file xml del progetto oppure usate la timeline come volete voi naturalmente non avete media non importa di sostituire con altre cose ma intanto potrete lavorare con una timeline che è impostata io invece che cosa farò naturalmente io ho già il progetto esercizio qui e quindi entro direttamente nel progetto esercizio ovviamente questo progetto esercizio io lo posso aprire facendo doppio clic qui su project drp è chiaro quello che ho dentro la cartella quindi diciamo che ho fatto doppio clic su project drp adesso mi trovo qua al suo interno lui mi chiede se il progetto selfie deve essere salvato certo lo salviamo perché lo chiude perché posso tenere aperto e lavorare su un progetto per volta ed eccolo qua non ho il link a voi apparirà la scritta media offline dappertutto avete rosso da tutte le parti che cosa farete? farete così come vi ho spiegato già prima quindi da master tasto destro del mouse relink all clip in bin cioè ricollega tutto però qui non ho niente da ricollegare perché sono già collegati tutti i clip altrimenti fate quello che vi ho appena spiegato prima siccome ve l'ho spiegato per tre volte se lo sbagliate ricazio e se scrivete nel forum che non riuscite a collegare i media io vi rispondo con delle multe no? mi sembra giusto vi multerò quando sbagliate cose che io spiego per almeno due o tre volte adesso dobbiamo prima di ricostruire tutto questo ambaradan vi voglio spiegare come è organizzato dunque cominciamo da qua cioè cominciamo dalla parte di sinistra la parte di sinistra è quella che contiene vedete le cartelle poi queste cartelle sono rappresentate anche qui in modo più evidente se faccio un doppio clic posso entrare nelle varie cartelle e troverò i contributi d'accordo? e questa è la timeline di montaggio qui ci sono naturalmente i due schermi ma che mi consentono di vedere l'uno i contributi vedete e l'altro invece lo svolgimento della timeline qui quello di destra lo svolgimento della timeline e questi invece i contributi però noi dobbiamo ripartire un po' da zero quindi dobbiamo cercare di capire come abbiamo importato questi contributi allora qui è la cosa più complicata inizialmente da capire di Da Vinci perché se non conoscete un po' l'applicazione non vi sapete orientare ma sono qui per questo e vi spiego subito il primo meccanismo di Da Vinci Da Vinci è un'applicazione che è suddivisa in ambienti funziona per ambienti distinti quindi noi adesso ci troviamo all'interno dell'ambiente di montaggio cioè l'edit ambiente edit se voi guardate in basso in questa schermata vedete che è evidenziato poco l'ambiente di edit quindi Da Vinci presenta anche un ambiente che si chiama media facciamo clic su questo ambiente l'ambiente media è l'ambiente nel quale noi carichiamo i contributi carichiamo i contributi e possiamo creare anche la struttura eccola qua la struttura di cartelle poi abbiamo l'ambiente edit che è quello di montaggio l'ambiente fusion non ci interessa assolutamente e passiamo direttamente all'ambiente color l'ambiente color è quello che ci permette di controllare la colorazione del nostro film e quindi di creare anche un'atmosfera nel film poi Firelight non ce ne occupiamo e invece che riguarda l'audio invece poi passeremo a Deliver che è lo strumento attraverso il quale noi usciamo cioè creiamo condividiamo il nostro prodotto lo trasformiamo in un file formato mpeg o quello che vogliamo noi e sarà quello che poi pubblicheremo quindi lo ripeto l'ambiente media è quello che ci consente di raccogliere tutti i contributi e di organizzare la struttura in cartelle poi abbiamo l'ambiente edit che è quello del montaggio vero e proprio l'ambiente color che è quello di colorazione e poi l'ambiente Deliver che è quello di condivisione non ci occupiamo in questi webinar né dell'ambiente di Fusion né dell'ambiente di Firelight passiamo all'ambiente media come si inseriscono i contributi qui in questo ecco come si inseriscono i contributi in questo ambiente si inseriscono semplicemente trascinandoli quindi abbiamo creato una cartella ecco abbiamo creato una cartella nel nostro computer una cartella che raccoglie in questo caso tutti i contributi siccome sono pochi li abbiamo inseriti all'interno di una cartella unica altrimenti normalmente è meglio dividere in diverse cartelle e li possiamo prendere tutti e semplicemente trascinare vedete che appare un tasto più e noi li collochiamo qui all'interno io direi che facciamo questa operazione partendo da zero quindi torniamo all'ambiente dei progetti creiamo un nuovo progetto e portiamo dentro tutti i contributi io farei così quindi con il tasto home vi ricordate questa è un'operazione che abbiamo già fatto prima con il tasto home siamo nell'ambiente progetti nell'ambiente progetti creiamo new project lui chiede se il progetto aperto deve essere salvato noi diciamo di sì lo chiamiamo voglio chiamarlo in un modo da non confondermi lo chiamiamo esercizio ripetuto da cancellare così mi ricordo che questo è quello che devo cancellare una volta che abbiamo fatto il nostro valore cosa succede da vinci quando creiamo il nuovo progetto ci porta direttamente nell'ambiente media quindi ecco che noi prendiamo tutti i nostri contributi e li inseriamo semplicemente qui ecco di qua abbiamo tutti i nostri contributi qua inseriti dove si trovano si trovano notate nel media storage lo vedete qua in alto a sinistra nella come dire non è una cartella è un ambiente fittizio è una come dire un settore un settore che si chiama master che è quello che raccoglie tutti i contributi cioè tutte le cose che inseriamo qui forse sono anche centinaia sono all'interno di una struttura il cui nome si chiama master ma se io faccio click con il tasto destro del mouse qui sotto ho l'opzione di creare un bin quindi creo una cartella e farò così creerò una cartella per esempio ricordate la struttura che abbiamo scelto era questa era inspiration perché creeremo due filmati uno ci lavoreremo poi quando parleremo dei raccordi uno sarà inspiration e l'altro sarà docufilm qualcosa del genere quindi creiamo due filmati e allora abbiamo ridistribuiamo i contenuti che ci servono in questi due filmati seleziono di nuovo inspiration e aggiungo una nuova bin in questo caso la bin sarà ovviamente il sottostante qui ci inserirò per esempio il video d'accordo poi creerò un'altra bin per le foto e poi posso creare una bin invece più generale perché sarà come una tutti con l'audio eccolo qua è bene lavorare con queste strutture insegnatelo anche ai vostri addieri piccoli o grandi che siano guardate che ho utilizzato Da Vinci con bambini di 9-10 anni di scuola elementare quindi insegnandogli anche queste procedure organizzative molto importanti e dopodiché ci ritiamo nel master perché nel master abbiamo tutti i nostri contributi ed ecco che le cartelle sono state aggiunte quindi cosa devo fare acchiappo i file audio eccoli qua e li porto nella cartella audio giusto poi non lo so questa è una foto 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 una foto tutte queste foto le inserirò dentro inspiration in foto qua di fianco a sinistra lo vedete lo sto trascinando qui bene poi acchiappo tutti i clip ah no acchiappo i clip che mi servono per il video di inspiration che mi sembra siano questi tac tac questo e questo no questo no ecco e li metto zac quelli questi li prendo e li metto il video dentro inspiration e gli altri dato che ho solo poi 4 clip che mi servono così li metto direttamente nella cartella docufilm senza suddividere ulteriormente la cartella docufilm ed ecco che abbiamo organizzato bene il nostro progetto allora ripeto in questa parte di sinistra con il tasto destro del mouse voi create le bin add bin oppure add bin in questo modo create le vostre bin seguendo una struttura una logica la logica può essere anche quella delle riprese mare montagna primi piani quello che volete voi però una logica che vi serve veramente per lavorare e fatto questo andiamo adesso a verificare se nell'ambiente edit noi ritroviamo la stessa struttura perché sarebbe il colmo che non ritrovassimo la stessa struttura giusto? quindi qui in basso scegliamo ambiente edit ed ecco che siamo nell'identica struttura video eccolo qua foto docu film audio benissimo fantastico adesso che cosa ci manca? ci manca ovviamente il montaggio cioè dobbiamo montare qui nella timeline adesso inizia il discorso un po' più tecnico con alcuni alcuni come dire alcune tipologie così metodologie che vi insegno e che sono molto interessanti prima però dobbiamo occuparci di una cosa perché voglio farvi vedere anche un po' la potenza di questa applicazione perché noi abbiamo creato una struttura che quella immagino vi possa servire per il vostro lavoro ma in realtà i professionisti lavorano in un modo un po' differente per esempio ritorniamo all'ambiente di media lavorano anche attraverso l'opzione ecco qua vedete che posso collocare le varie le varie finestre dell'interfaccia come mi pare lavorano molto con le smart bin che cos'è una smart bin guardate come funziona la smart bin è una una cartella non reale virtuale mentre quelle che abbiamo creato qui sono cartelle reali la smart bin è un modo di interpretare le caratteristiche che sono evidenziate attraverso i metadati di ogni contributo cioè non opera fisicamente non dobbiamo trascinare i contributi all'interno di vere e proprie cartelle ma qui si occupa di creare una cartella che abbia al suo interno fra tutti tutte le risorse che abbiamo inserito nel nostro progetto si occupa di creare una cartella che raggruppa degli elementi sulla base dei loro metadati che abbiamo scelto è più facile da farvi vedere che da spiegare quindi io scelgo questa opzione add smart bin e cosa mi dice per esempio a me è interessa una cosa state a sentire alcuni di questi filmaggi sono stati realizzati a 50 fotogrammi al secondo perché perché ho intenzione poi di rallentarli li rallento anche del 50% e quindi io alla fine ottengo un buon filmato un filmato normale a 25 fotogrammi al secondo e quindi non andrà a scatti però altri filmati sono stati registrati a 25 fotogrammi al secondo quindi non sono adatti per fare il rallenty perché perdo dei fotogrammi se per esempio un filmato di un minuto registrato a 25 fotogrammi io lo prolungassi nella durata cioè lo rallentassi a 2 minuti mi troverei a lavorare con 17 fotogrammi al secondo e quindi vedrei un filmato più o meno a scatti allora qui io scrivo il nome di questa smart bin e faccio così ralenty e adesso devo scegliere le proprietà che voglio individuare quindi va bene tra i metadata dei clip d'accordo file name non mi interessa perché non è il file name vediamo se c'è qualche cosa no? eccolo qua frame rate eccolo qua frame rate è fantastico quindi voglio che il frame rate sia di 16 non funziona vedete che non mi mostra niente quando ho nessun contributo a 16 fotogrammi al secondo vediamo cosa succede se dico 24 vedete che compaiono subito tutti i filmati a 24 fotogrammi al secondo anche le fotografie perché in fin di conto il progetto che ho creato è un progetto che viaggia a 24 fotogrammi al secondo però se cerco 50 lui seleziona solo quei contributi che hanno questa caratteristica ora osservate se io volessi aggiungere un'altra caratteristica tipo non lo so la data la descrizione il commento varie cose questi sono ci sono anche termini molto professionali che a voi non interessano e che però identificano determinati contributi lui farà una ulteriore selezione invece naturalmente in questo caso io sono contento così quindi o lo deseleziono o addirittura questa nuova opzione la cancello con il tasto meno quindi vi è chiaro il meccanismo ve lo rispiego create smart bin ci troviamo qui nelle smart bin e scelgo col tasto destro del mouse add start smart bin gli attribuisco un nome potrebbe essere anche non lo so piano sequenza campo contro campo quello che vogliamo e poi scelgo nel file name l'attributo che mi interessa in questo caso sarà il frame rate il frame rate deve essere di 50 fps in questo caso e quindi creo la smart bin ed eccola qua una smart bin che si chiama rallenty allora è chiaro che adesso abbiamo questa struttura con cartelle reali e cartelle come si dice virtuali con cartelli virtuali che sono state create senza che all'interno ci siano veramente i contributi inseriti fisicamente adesso passiamo all'ambiente edit per controllare se è stato riprodotto questo meccanismo e devo dire che in effetti noi abbiamo il nostro qui possiamo cominciare adesso a lavorare perché nel momento in cui voglio rallentare so già quale filmato fa al caso mio bene fatto questo adesso io voglio ritornare al progetto quello che vi ho mandato già costruito per vedere come l'abbiamo organizzato e poi ritorniamo qui per ricostruirlo quindi facciamo tap qui clic vuol dire in basso a destra e torniamo al project manager alla home cioè questo simbolo di casetta problema e gli diciamo che da esercizio ripetuto da cancellare passiamo invece a progetto esercizio di nuovo ci ripete se vogliamo salvare il progetto che abbiamo aperto certo perché non lo devi salvare salviamolo e adesso siamo invece nel nostro nella nostra timeline perfetto vediamo come funziona la nostra timeline eccola dispongo un po' meglio allora qui abbiamo inserito un titolo qua ci sono dei contributi che sono stati inseriti in linea però sempre da un punto di vista organizzativo la prima cosa che vi voglio dire è che a noi interessa fare in modo che i nomi dei clip abbiano un senso per noi vedete per esempio questo si chiama 01 questo 02 03 hanno una successione d'accordo invece se noi vediamo come sono sì no perché io ho già riprodotto il ho importato il progetto che ho creato per voi già apposta così e quindi ha i nomi corretti ma voi quando guarderete il vostro progetto qua ecco così scusate così in questo modo quando voi guarderete il progetto noterete che i nomi dei file non corrispondono non sono 01 02 03 04 ma hanno dei nomi un po' astrusi che sono questi ve li mostro all'interno della cartella che ho usato lo vedete sono così i nomi sono questi perché sono questi perché quando voi fate le vostre riprese sia con l'iPhone che con una fotocamera eccetera loro hanno un modo di catalogare le riprese che non è quello che fareste voi e quindi ci sono delle sigle fondamentalmente è chiaro che adesso se montiamo un filmato di un minuto con dieci contributi ci orientiamo facilmente perché dalle immagini possiamo capire di che cosa si tratta dalle miniature ma nel caso in cui dovessimo svolgere delle operazioni più complesse con più contributi questa nomenclatura non ci va assolutamente bene e quindi noi la dovremmo cambiare e per cambiarla noi faremo così perché qua non me lo dà ecco faremo così quindi scegliamo la visualizzazione non attraverso l'immagine che rappresenta il filmato ma la visualizzazione per nome e poi qui naturalmente possiamo cambiare il nome come vogliamo e com'è meglio chiamarlo in questo caso beh il primo filmato che montiamo lo chiamiamo 01 poi sarà 02 03 eccetera in modo che anche quando passeremo il progetto come io ho fatto con voi vi ritroverete una nomenclatura adeguata allora ripeto qui attraverso una visione di questo genere cioè attraverso le immagini che rappresentano il filmato quindi una rappresentazione visiva voi troverete i nomi originali del filmato che potrete modificare invece passando a una visione per elenco ok adesso quindi torniamo invece nella nostra timeline originale cioè del progetto che stiamo costruendo per vedere di fare una cosa analoga vediamo un po' cosa abbiamo come possiamo disporre appunto i nostri click allora ritorniamo al project manager e apriamo il progetto quello che ho creato io in questo caso esercizio ripetuto da cancellare e scegliamo i contributi che dobbiamo inserire all'interno della timeline adesso mi seguite con calma perché vi spiego un po' di cose che vi sono utili per montare correttamente i filmati in successione dunque mi sembra che siamo partiti da questo contributo il mare bene allora io lo trascino lo porto semplicemente qui notate che nel momento in cui io trascino il contributo la timeline cambia perché mi dice che cosa mi dirà che io inserirò il filmato sulla traccia v1 e il suo audio corrispettivo sarà sulla traccia a1 eccolo qua abbiamo inserito il nostro primo clip non ci piace tanto come si vede adesso vi voglio spiegare prima di montare gli altri clip come noi però dobbiamo operare bene nel momento in cui inseriamo i clip nella timeline quindi la prima cosa che dobbiamo fare è darci come dire una visualizzazione che ci permetta di lavorare bene abbiamo due strumenti sui quali agire che sono questi li trovate qui 1 e 2 con l'1 noi possiamo aumentare o diminuire l'ampiezza di visione della timeline questo perché possiamo anche voler lavorare sul singolo fotogramma o fare un cut preciso per esempio in questo punto ecco dove c'è lo spruzzo poniamo ma lo voglio controllare meglio questo cut voglio controllare meglio il taglio qui allora allungherò la visualizzazione vi è chiaro il meccanismo abbiamo un tasto più un tasto meno oppure una pallina come si chiama lo slider da su quale agire eccolo qua diciamo che lo lasciamo così poi mi interessa qua che venga visualizzato in un modo diverso perché questo azzurro e questo verde non mi dicono molto allora farò così apro le opzioni di visione della timeline stiamo lavorando sul modo con cui io posso vedere le cose quindi per esempio non lo so scegliamo questo e poi allarghiamo il video adesso arrivo e faccio vedere come abbiamo fatto e poi vogliamo vedere anche la forma d'onda eccolo qua allora abbiamo fatto un po' di scelte in modo tale che possiamo vedere intanto le immagini e i fotogrammi di questo filmato e possiamo anche vedere la forma d'onda poi qui in basso posso agire sull'ampiezza sia della forma d'onda che dell'audio cioè dell'audio scusate che del videoclip poi di nuovo faccio un un clic sull' l'opzione di vista della timeline per chiudere la schermata adesso quindi devo riorganizzarmi qui in modo tale vedete che con questo sistema se io mi colloco nei punti di giuntura posso allargare o diminuire vedete lo spazio di visualizzazione eccolo qua adesso possiamo ragionare cioè possiamo cominciare a lavorare bene però abbiamo due problemi prestate attenzione a quello che vi spiego adesso perché diciamo è un modo migliore di lavorare rispetto a quello che magari molti di voi fanno di solito che cosa fanno di solito molti di voi fanno così dicono guarda un po' qui c'è l'onda no? l'onda arriva e poi c'è lo spruzzo mi interessa questo spruzzo qua ecco bello questo spruzzo quindi prendo il clip da qua diciamo e quindi faccio così track lo chiudo così e poi vado più avanti e voglio qui chiudere qui mentre l'onda sta per scomparire giusto? fareste così voi poi prendete il clip e lo spostate non è questo il modo di lavorare sia chiaro si può anche fare così ma diciamo non è il modo migliore per lavorare che cosa dobbiamo fare invece? allora prima di tutto dobbiamo quindi sto facendo me la z lando per tornare indietro e prima di tutto dobbiamo controllare che se noi facciamo un'operazione di questo genere ecco il taglio si fermi proprio al punto in cui c'è la testina vedete che è difficile no? stabilire il punto esatto cosa devo fare? devo allargare la timeline guardate che se allargo la timeline vedete che mi sembrava che ho fatto un taglio sul player e invece non l'ho fatto perché? perché la timeline era in queste dimensioni e a queste dimensioni io ho l'idea che il taglio sia qua e invece non è qua ecco perché è importante la visualizzazione allora cosa devo fare lavorando anche in questo modo cioè lavorando nel modo sbagliato cosa devo fare per fare un cut al punto giusto qui beh collocherò abbiamo detto il player nel punto che mi interessa e poi devo guardare di attivare la calamita eccola qua la calamita se io attivo la calamita che cosa succederà? succederà che tutti i contributi che unisco che monto taglio e così via collimeranno perfettamente ai loro estremi qui e qui e collimeranno anche con il player anche qui ecco che cosa facciamo prendiamo e tac vedete che c'è un aggancio zac lui io lo sto portando ma lui si aggancia controlliamo se è vero e infatti è vero io sto allargando la timeline e lui è perfettamente agganciato al frame di riferimento e lo stesso farò qua quindi voglio montare abbiamo detto quando l'onda sta scemando a questo punto anzi facciamolo dopo va un po' dopo non sbagliamo così poi possiamo lavorare sui raccordi di movimento e avendo la calamita attiva posso acchiappare l'estremità e tac lui si aggancia all'estremità e allora porto il mio filmato che cosa abbiamo imparato abbiamo imparato alcuni strumenti per vedere bene quello che sto facendo e fare in modo che il taglio sia preciso però questa questa cosa che vi ho insegnato diciamo non è quello che dovete fare perché il trucco si no il trucco della calamita e della vista si però non si monta un filmato così anche perché c'è un problema noi stiamo creando un filmato di ispirazione diciamo che in questo filmato non ci interessa l'audio perché monteremo poi una colonna somare a noi e allora come facciamo qui abbiamo il video e l'audio che sono agganciati allora voi dite va bene io seleziono l'audio che è la parte verde e poi la cancello tac e no e no perché l'audio è sincronizzato con il video e quindi se io compio questa operazione mi salta anche anche il contributo visuale vedete se io seleziono il video si seleziona anche l'audio se seleziono l'audio si seleziona anche il video è un bel casino come faccio allora devo sganciare devo sganciare l'audio dal video e per sganciarlo che cosa devo fare secondo voi no potrei se fossimo in aula vi farei la domanda che cosa dovete fare perché potrete arrivarci da voi qui abbiamo il magnete e qui abbiamo un anello questo non serve per creare i link internet questo serve per vedete link selection quindi se io faccio così tolgo il deseleziono il link a questo punto posso selezionare l'audio e vedete non viene invece agganciato anche il video e dunque se lo cancello mi rimane il filmato fantastico lo rifacciamo quindi eravamo così e il filmato era linkato deselezioniamo l'opzione di aggancio che poi sarebbe l'opzione di sincronizzazione tra l'audio e il video e a questo punto posso selezionare il video e toglielo lascio solo l'audio oppure seleziono l'audio e tolgo e lo tolgo lasciando solo il filmato allora non male quindi diciamo che abbiamo creato un filmato più o meno così d'accordo abbiamo tolto l'audio e siamo a posto possiamo andare avanti a montare giusto? no sbagliato perché anche nel caso dell'audio noi non operiamo in questo modo ma adesso vi spiego come monta come si monta diciamo in modo un po' più intelligente e professionale il modo sbagliato consiste nel fatto che adesso posso acchiappare non so questo contributo lo porto qua di fianco poi faccio così scelgo il punto e tutto il resto e vado avanti all'infinito invece adesso vi mostro come noi possiamo operare in un altro modo cioè prima di tutto vediamo il nostro filmato sulla finestra di visualizzazione sul player del nostro contributo quindi facciamo un doppio click in modo che persista con il doppio click noi manteniamo la visione di questo filmato oppure il doppio click qua sotto vedete vediamo quest'altro oppure il doppio click qui vediamo quest'altro ancora cominciamo dal mare guardate come facciamo facciamo così noi mandiamo avanti il la testina il filmato è breve mandiamo avanti la testina e contemporaneamente mentre mandiamo avanti la testina premiamo il tasto i proprio quello della i tante volte perché premendo il tasto i tante volte lui crea i punti di in e poi quando abbiamo trovato il punto di in premeremo tante volte il tasto di o e creeremo il punto di out adesso questo è un contributo che dura pochi secondi ma se avessimo una ripresa più lunga questo è un modo molto interessante di procedere allora proviamo a farlo insieme mi seguite quindi con la barra spaziatrice oppure con la freccia del mouse faccio partire il filmato e adesso inizio a battere i vedete che batto tutte le volte che batto i appare un puntino lo vedete adesso ho smesso di battere i e mi è apparso il puntino qua questo è l'in è il tasto di in cioè il filmato il contributo che io collocherò sulla timeline inizia da qui e poi lo posso spostare anche manualmente rifacciamo togliamo tutti i nostri puntini ritorniamo indietro e ripartiamo da zero quindi ripeto faccio il play e batto i i i i i i fino a che eccolo qua c'è l'onda che si sta ritirando qui mi sembra buono adesso inizio a battere l'out out out eccolo qua più o meno fino a questo punto allora questo grosso modo è la parte che mi interessa eccolo qua il draft cut cioè il montaggio preliminare non mi interessa a questo punto essere preciso d'accordo arrivare proprio qui non mi interessa mi interessa prendere grosso modo coprire grosso modo la scena che voglio rappresentare e poi beh a questo punto se io prendo il filmato lo colloco sulla timeline ecco che lui partirà dall'in e out che io ho segnato e non mi darà tutto il film vedete quindi non farò più l'operazione di aggiustamento sulla timeline ma sceglierò il contributo la parte che mi interessa direttamente invece dal media pool cioè da dove ho gli elementi però qui sotto abbiamo l'audio la cosa non funziona vogliamo fare una cosa completa d'accordo allora facciamo così lasciamo tutto ben selezionato avete capito come funziona ok allora io adesso prendo questo contributo e lo porto sulla timeline però lo voglio senza audio allora ecco che cosa dovete fare notate che v1 sarebbe la traccia video numero 1 e a1 è la traccia audio numero 1 abbiamo v1 e a1 v1 e a1 sono agganciate infatti se io trascino il filmato qui ecco che mi apparirà sotto anche l'audio sincronizzato e poi dovrò fare le operazioni che vi ho insegnato prima per sganciarlo invece questo non mi sta bene io voglio creare un draft cut in modo che da essere diciamo così già subito operativo già da avere un sistema di aggancio preciso sulla timeline più o meno allora è molto semplice l'operazione da fare basta che io deselezioni la traccia audio è molto semplice vedete se la tengo attiva allora il filmato mi riporta anche il suo il suo contributo audio se invece lo disattivo guardate che cosa succede attacco inserisco il clip nella timeline e lui lo inserirà direttamente senza audio ecco come dobbiamo operare e allora praticamente sarà semplice perché contributo dopo contributo io con questo sistema faccio così faccio partire e faccio in in e poi out va bene basta mentre sulle nuvole diciamo è abbastanza omogeneo questo filmato però intanto farò così ho sempre deselezionato la traccia A1 e quindi trascino il clip qui e poi ne trascino ancora un altro per esempio questo per esempio se noi vediamo questo questo è un filmato che a un certo punto balla non mi interessa più d'accordo? quindi qui io posso operare in un altro modo qui vado a trovare esattamente il punto in cui balla inizia a ballare qua diciamo anche un po' dopo e inserisco il punto di O quindi di Out e il punto di In è qui lo posso anche inserire ma non mi serve più d'accordo? quindi in questo caso ho operato in un altro modo ho utilizzato i punti In e Out per vedere scorrere il player fino a punti in cui inizia a ballare un po' di più un po' di più perché ho sempre bisogno di margine ricordatevi questo non fate mai il cut specialmente nel draft cut non fate mai un cut preciso ma lasciate sempre qualche cosa prima e dopo qui inserisco il punto di Out e ovviamente il punto di In sarà questo lo voglio inserire perché mi piace vedere il pallino faccio clic sul tasto I quindi sto usando la tastiera tasto I e tasto Out dopodiché prendo il contributo e lo inserisco qua ah mi sono dimenticato vedete di deselezionare la timeline perché sono tornato indietro con me la Z non importa facciamo così inserisco questo è venuto il momento di parlare invece delle metodologie di montaggio cioè di inserimento nella clip è chiaro che quello che vi mostro adesso potete anche non utilizzarlo cioè potete anche prendere il vostro clip lo inserite qui poi spostate questo d'accordo poi lo spostate così aggiungete quello e andate avanti perché questo è quello che fanno che fa la maggior parte delle persone d'accordo potete anche continuare così vi trovate bene e fatelo però non è male imparare qualche nuovo sistema quindi siamo qui abbiamo un buco abbiamo un buco qui vogliamo inserire il clip esattamente qui per qualsiasi motivo magari questo l'abbiamo spostato qua perché abbiamo l'idea che questi secondi siano quelli che ci servono prima di passare a quest'altra visione cosa facciamo? allora io prenderei il clip qui e lo porto guardate lo porto qui sulla destra lo trascino sulla destra sto passando dal player del media pool al player dell'artist della timeline e cosa gli dico? gli dico che per esempio può inserire il filmato all'interno però non funziona avete notato cosa succede? io qui inserisce il filmato sembra quello giusto no? vedete dice inserisci tac e invece no perché me l'ha inserito ma ha spostato tutto allora questo è interessante quando quando voglio inserire qualcosa e e lui mi sposti i contributi allora quando lo uso insert? lo uso quando le cose stanno così allora inutile che io vada a spostare questo oggetto mi collo collo il player qui e poi gli dico acchiappa e fai insert e voilà e lui mi ha già inserito il contributo d'accordo? lo acchiappo e faccio insert tac bene però questo non è il nostro caso noi siamo in una situazione invece di questo genere allora cosa dobbiamo fare? beh evidenziamo la parte la parte diciamo come se fosse un clip la parte vuota la evidenziamo e poi diremo che deve sovrascrivere questa parte vediamo se funziona ops non ricordo dove avevo la testina ce l'avevo lì non funziona ecco vediamo un po' sovrascrivi 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 no perché sovrascrivi che cosa fa? lui parte da dove è la testina ma mi copre tutto tutto quello che c'è cioè sovrascrivi proprio sostituisce non solo la parte vuota ma tutto quello che c'è tra l'in e out di durata di questo filmato non va bene caspita allora cosa posso fare? procediamo vediamo un po' ci sarà il replace vediamo se funziona il replace eccolo fantastico il replace funziona perché? che cosa ha fatto? lui ha trattato questo spazio vuoto che noi abbiamo selezionato l'ha trattato come se fosse un clip quindi l'ha chiappato replace adesso io devo tranquillizzare qualche insegnante in preda a uno stato ansioso che lo so già perché conosco i miei polli pollastri eccetera che dice ma come faccio a ricordarmi tutte queste cose? ma non te le devi ricordare no vedi che tu devi ricordare che esistono questi diversi sistemi di montaggio li provi li provi poi se fai un film all'anno è chiaro che non ti servirà niente ricordarti anzi ti dirò procedi come pensi di procedere cioè spostando nella timeline come abbiamo visto prima se lavori più solente invece ti ricorderai ma soprattutto i tuoi studenti o le persone che lavoreranno poi su questi filmati si intrigheranno nel vedere come i sistemi di montaggio si presentano all'interno di Da Vinci come sono interessanti e quindi ci lavoreranno molto ecco il fit to film mi cambia l'out del filmato e poi via discorrendo possiamo andare avanti eh per esempio place on top è interessante perché se noi qui volessimo a questo punto preciso inserire un filmato sopra nella taccia video 2 faremo così place on top allora dal punto della testina lui inserisce l'in e out qua allora ricapitolando la cosa migliore da fare è questa abbiamo montato i nostri filmati in successione poi ci accorgiamo che qui in mezzo manca qualcosa ne volevamo inserire qualcuno e allora allora da qui usiamo l'insert con il tasto ecco con il montaggio insert ecco qua insert e noi inseriamo il filmato qui una cosa invece interessante è quando vogliamo sostituire il filmato diciamo che abbiamo questo questo lo vogliamo sostituire con questo delle nuvole abbiamo un in e out qua quindi lo vogliamo sostituire allora in questo caso faremo così faremo un replace e replace che cosa fa? lui mi sostituisce questo filmato però solo nella misura della durata che io ho selezionato dal clip delle nuvole quindi è chiaro che se dura meno mi inserirà solo un pezzetto lo avete visto? rifacciamo questo ha una durata inferiore se gli dico replace lui inserisce solo un pezzetto cioè il pezzetto naturalmente che ho ho stabilito io nei tasti in e out se li allargo se aumento il punto di in e out ecco qui ho aumentato l'in e out di questo filmato a questo punto lo lo gli dico replace sarà maggiore un po' maggiore la lunghezza diciamo la parte che mi sostituisce d'accordo? ritorniamo alla posizione precedente quindi abbiamo invece questo filmato e voglio sostituire tutto questo esattamente non dal punto in e out di che ho stabilito per le nuvole ma proprio voglio che le nuvole prendano il posto completamente di questo contributo eccolo il fit to fill con il fit to fill io lo sostituisco completamente ecco seleziono il filmato e poi fit to fill lo sostituisco poi a questo punto che cosa dobbiamo fare? dobbiamo inserire i titoli no? perché abbiamo concluso il nostro montaggio siamo andati avanti per un po' e dobbiamo inserire i titoli dove li inseriamo i titoli? quindi scegliamo nella effect library e nella effect library che viene mostrata qui sotto prendiamo la sezione title e in particolare per esempio questo text allora che cosa farò per inserirlo? userò il comando insert da qui l'ho trascinato sempre nella timeline insert altrimenti se non avessi fatto questo che cosa avrei dovuto fare? non so dovuto prendere il file di testo metterlo qua selezionare tutta la timeline spostarla tirare giù questo cioè capite che è un'operazione molto incasinata che ripeto potete sempre fare naturalmente perché alla fine quello che conta è il risultato ma invece con l'opzione insert io sposto tutta la timeline e inserisco tutti i contributi e poi ci sarà un titolo di coda che quindi inserirò semplicemente qui e quindi avrò titoli di test e titoli di coda vediamo come funziona seleziono il clip del titolo di testa faccio un doppio click qui sopra e si apre l'inspectro l'inspectro lo posso aprire lo posso chiudere guardate lo apro lo chiudo lo apro lo chiudo adesso è aperto e qui basterà che scriva il titolo del mio filmato poi scelgo i caratteri e tutto il resto questo non so neanche a parlarne e dopodiché abbiamo il nostro titolo poi inizia il filmato eccetera eccetera adesso qui voglio scrivere qualcosa d'altro però c'è un problema vedete abbiamo usato come dire lo stesso titolo effetto dei titoli di avvio e invece noi vorremmo magari inserire uno scrolling allora togliamo questo contributo oppure lo sostituiamo con che cosa? lo sostituiamo con lo scroll eccolo qua abbiamo lo scroll quindi lo scroll sarà così e abbiamo fit to fill e abbiamo inserito il nostro scroll oh ma che brutto scroll allora scriveremo non so il nome degli autori eccetera eccetera e poi gli diremo che in realtà dovrà mostrare al centro poi sceglieremo la dimensione e i caratteri e tutto il resto e il risultato sarà questo autori eccetera naturalmente posso decidere la durata così perché se scrivo tante cose poi naturalmente scorreranno in fretta è chiaro per esempio succederà questo se io scrivo così ecco vediamo ci sono tutti tutto quello che io devo scrivere e la durata è questa il risultato sarà questo quindi impossibile leggere come faccio a scorrere più o meno velocemente beh basta che io allunghi o accorci la durata del clip è tutto lì è una questione di tempo più persiste sullo schermo e più lento sarà lo scorrimento ancora un'ultima cosa prima di passare al nostro progetto e vedere che cosa abbiamo realizzato cioè quello che vi ho dato inseriamo delle transizioni naturalmente io vi dico che il montaggio perfetto così è il titolo del nostro webinar il montaggio perfetto non prevede transizioni specialmente tra una scena e l'altra un'inquadratura e l'altra non prevede transizioni ma è un montaggio a secco però nei titoli sì e quindi come facciamo beh basta prendere queste linguette noi prendiamo queste linguette e appare un numero che cos'è quel numero che appare è il numero di fotogrammi siamo a 14 20 e qui a questo punto siamo a un secondo un secondo e un fotogramma un secondo è 3 e 4 e 5 e 6 7 10 11 e 12 per esempio un secondo un secondo e 10 fotogrammi corrisponde circa a un secondo quasi un secondo e mezzo facciamo così anche qua facciamo 1 e 10 bene poi facciamo così anche qui 1 e 10 poi so già che a voi e ai vostri studenti piace molto inserire non solo studenti anche nelle aziende così quelli che poi vogliono i loro firmati mi piacciono molto queste transizioni ma in realtà va bene quando dobbiamo inserire dei titoli ecco così oppure ci sono dei cambi d'immagine oppure delle sequenze oniriche ci sono tanti casi in cui si possono inserire e ne parleremo poi in un'altra stagione di tecniche di questo genere e quindi abbiamo il nostro filmato così zac ecco portiamolo un po' avanti quindi poi appaiono gli autori noi abbiamo finito dobbiamo solo inserire la colonna sonora che è molto semplice da inserire perché la colonna sonora basta trascinarla qua sotto ma vi faccio vedere poi nell'altro progetto diciamo che queste sono le operazioni che mi interessava che voi applicaste più una che è l'ultima che vi spiego e cioè prestate ancora attenzione io adesso voglio fare un taglio perché mi sono accorto che per esempio voglio inserire voglio tagliare il clip qui per qualche modo posso fare così d'accordo ma posso anche trasformare il mio il mio cursore in una lametta segnatevi questa cosa segnatevi che se voi premete il tasto A sulla tastiera voi avrete una howl cioè una freccia se premete il tasto B avete un blade cioè una lametta vedete B A A B vedete lametta quindi B per avere la lametta la vedete mi colloco qui vicino alla testina e poi faccio il cut ed ecco che ho tagliato il clip perché mi serve perché magari io voglio fare un'altra operazione no faccio così poi faccio così e voglio scartare questo scartare questo e prendere questo e a questo punto però non voglio spostare questo così e poi prendere tutti i contributi mettiamo che la timeline si allunga beccarli tutti rascinandoli e portandoli qua voglio fare un'operazione più semplice come faccio seleziono lo spazio vuoto vi ricordate che si può selezionare lo spazio vuoto e poi lo cancello così tasto destro del mouse ripple delete seleziono lo spazio vuoto tasto destro del mouse ripple delete e quindi lui che cosa fa anche se io qui avessi 20 contributi 30 un'ora di firme mi sposta tutta la sequenza senza bisogno che io stia a selezionare a spostare tutto tac lo ripeto seleziono lo spazio vuoto e poi ripple delete seleziono lo spazio vuoto e poi ripple delete perfetto allora noi abbiamo quasi finito per oggi perché passiamo al progetto generale vi spiego due cose sulla musica andiamo così a vedere un po' come è strutturato il progetto queste sono le operazioni essenziali quindi cosa devo fare ogni tanto lo salvo chiaramente il progetto e passo al project manager quindi con il tasto home tasto home e abbandono l'esercizio ripetuto da cancellare e prendo proprio il progetto esercizio eccolo qua in effetti il progetto esercizio noi abbiamo proprio ottenuto questo risultato abbiamo un draft cut un draft cut che è questo della durata abbiamo stabilito mi sembra in tutto di un minuto un minuto di filmato perché avete due però ne sono avintanto e non una ne avete due perché ecco adesso così lo vedete meglio ne avete due perché intanto di audio ce ne può essere diverso può esserci una voce fuori campo che spiega può esserci un dialogo possiamo arrivare anche a diversi livelli ma in questo caso che creiamo un filmato di ispirazione abbiamo trascinato letteralmente le due colonne sonore qui per il fatto che siamo indecisi su quale scegliere e allora come operiamo questo è un bel problema che però da vinci risolve molto efficacemente attraverso questo pulsante M significa mute quindi se io voglio ascoltare la colonna sonora numero 3 che si chiama la 1 la lascio libera perché poi magari ci mettiamo una voce fuori campo per dire una spiegazione o dei rumori non lo so quindi le colonne sonore le mettiamo sempre sotto alla fine beh abbiamo due modalità diverse di rappresentare questo filmato attraverso una colonna musicale una è tipico francese diciamo l'altro è rock ho dato io questi nomi perché altrimenti non avrebbero questi nomi basta fare click qui dentro e scrivete quello che volete preferite francia scriviamo francia rock ok quindi identificate le colonne sonore con quello che con un nome specifico e poi dopodiché le ascoltiamo alternativamente quindi mettiamo in mute francia e ascolteremo quindi rock quindi funzionerà così oppure mettiamo in mute rock e ascolteremo francia mi interessa mi interessa questa cosa perché penso che dovrò aggiungere un webinar su qualcosa che riguarda il montaggio audio vi voglio spiegare perché non so se riuscirò a spiegarvi delle cose all'interno di uno dei webinar programmati e quindi vi ho messo queste due colonne quindi è da provare da ascoltare con questo lavoro voi avete le due colonne sonore e dunque abbiamo finito voi noterete che qui c'è qualche cosa che si chiama bande nere che cosa è questo bande nere? è un file molto interessante creato con photoshop che io li ho inserito qui ecco dove l'ho inserito col tasto destro del mouse cerchiamolo in find media pool eccolo questo bande nere che cos'è bande nere? guardate come viene visualizzato il filmato nel player qua bande nere ecco così si vede meglio perché ho dovuto cambiare la risoluzione del monitor abbassarla per non appesantire troppo la banda per questo webinar allora osservate che qui il filmato ha ecco qua il video ecco il video è tagliato perché qui ci sono due bande nere che sono esattamente queste se io le tolgo la visuale aumenta però in questo modo abbiamo un effetto cinematografico con bande osservate senza bande con bande senza bande ok con bande e senza bande quindi basta prendere bande nere e poi inserirlo qua ecco così e la allarghiamo e la portiamo poi vi faccio vedere come in realtà poi bisogna ridimensionarla una cosa che facciamo la prossima volta quando parliamo sabato quando parliamo appunto di alcune particolarità del montaggio tra i quali raccordi e tutto il resto quindi opereremo anche a livello di distorsione dell'immagine se no torniamo alla situazione di prima che è già montata e che è questa abbiamo collocato delle bande nere e che cosa abbiamo imparato? allora abbiamo imparato a gestire i progetti abbiamo visto le cartelle i progetti che possiamo inserire all'interno delle cartelle poi abbiamo capito che si può importare un progetto e il progetto lo possiamo anche esportare per esempio possiamo prendere un progetto qualsiasi e scegliamo archivi al progetto archivi al progetto è quello che ho fatto arrivare all'interno della board quindi con tutti i contributi poi abbiamo imparato che in realtà possiamo anche condividere solo il file del progetto quindi esportiamo il progetto poi possiamo esportare in XML la timeline semplicemente poi abbiamo visto come tagliare i contributi direttamente dal clip attraverso i tasti in out stabilire l'inizio e la fine abbiamo visto i diversi sistemi di montaggio abbiamo visto come si sgancia l'audio dal filmato corrispondente abbiamo visto i sistemi di visualizzazione della timeline abbiamo visto che insomma ci sono alcune operazioni che sarebbe meglio compiere in un altro modo rispetto a quello che magari al quale voi magari siete abituati che è quello appunto di operare sulla timeline tagliare spostare eccetera però abbiamo visto anche come si taglia vi ricordate il tasto B blade mostra la lametta il tasto A invece è il player è appunto il player poi l'aggancio magnetico l'aggancio magnetico che significa anche che se io sposto questo oggetto lo voglio agganciare tac lui qui lo aggancia magneticamente altrimenti c'è il rischio che lasci degli spazi neri e che noi magari non vediamo occhio nudo se non esplodendo dal visuale della timeline poi abbiamo visto che possiamo montare direttamente due, tre, quattro con la MS9 quello che vogliamo e poi con le opzioni di mute possiamo scegliere quale sta meglio e magari fare anche un'indagine abbiamo visto tra le cartelle anche come si creano come si distribuiscono i contributi e poi come si crea una smart beam attraverso le opzioni il lavoro diciamo una selezione sui metadati quindi insomma ne abbiamo fatte di cosette non abbiamo visto come si salva il filmato e si condivide ma che sarà oggetto poi delle prossime di prossimi webinar su Da Vinci dunque quindi interrompi stai condividendo lo schermo lo interrompo ok però sono sempre in diretta giusto? adesso dovreste vedermi eh? ci sono io e spero che abbiate imparato le cose essenziali con quello che vi ho spiegato che diciamo non è neanche il 10% di quello che può fare Da Vinci voi pensate che Da Vinci può lavorare su contributi di grandi dimensioni su migliaia e migliaia di contributi lavorare su un database SQL quindi è veramente straordinario le cose che può fare no? però è interessante perché noi abbiamo a disposizione un'applicazione veramente professionale gratuita su quale far lavorare anche studenti piccoli però facendo loro acquisire una mentalità corretta e non una mentalità sbagliata io per esempio parlando anche con degli insegnanti elementari giusto qualche giorno fa spiegavo che svolgere delle operazioni di montaggio una reazione creazione di fumetti eccetera le scuole elementari è una cosa molto positiva ma se si parte con un'impostazione sbagliata questa resta tutta la vita poi quando si trovano a lavorare veramente nel mondo del lavoro magari qualcuno di loro sceglie una professione nel campo della comunicazione della grafica della produzione di storie eccetera o anche semplicemente per fare delle proprie presentazioni filmiche curriculum e così via lo farà in modo sbagliato e non è corretto questo cioè noi non dobbiamo pensare che facciamo le cose a scuola perché ci sono è bello farlo proviamo questo proviamo quel lato io sono sempre chi mi conosce lo sa per applicare dei meccanismi professionali tecnicamente evoluti naturalmente adatti alle diverse età diciamo gli scopi del nostro lavoro questo è ovvio no? è chiaro ecco occhio va bene allora buona serata fatti i compiti arrivederci a sabato grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.